3 AvaVaders GL Elevatori me la posso riprendere? DMGB in macro sta arrivando è lento non parlare nei video ti sacciffa la vedra no qua va fino a 0478 aspetta non muoverti anduffiamo la vedra 7 persone e non lo so che ci sono la vedra non posso fare un video molto bene perché c'è mia mamma con me levati ma è forza fixers ok non parlare dei video non scendere non scendere 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 non parlare non parlare non parlare non parlare non parlare non parlare ma è la sabbia non parlare ma è la sabbia è molto bella ma è la sabbia è molto bella cazzo riprendita 8 persone 620 gigograms GL elevatori volti 2014 8 persone 620 gigograms ma state non la beh non e qui c'è un terzo elevato e questo è il motore e qui c'è la polizia di questo elevato è il film elevato in 1960 e questo è venuto a me un po' di bambino un po' di bambino e è venuto è davvero veloce a casa dove? H12 2026 30 persone 1000 kg non so dove va ma lo prenderò wow è una buona ruota su questo elevato oh well going really deep and well we are here that's it that's it